Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà il graduale allontanamento della perturbazione che sta insistendo su gran parte dell'Italia da alcune ore. Quindi si va verso un miglioramento del tempo, però attenzione perché in realtà un nuovo sistema nuvoloso, anche piuttosto intenso, raggiungerà l'Italia nella giornata di domenica e la prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da ritorno di piogge diffuse anche di forte intensità. Ecco, domenica è una sorta di giornata di tregua, quindi vediamo che domenica ci attende con ancora qualche residuo piovasco nella prima parte del giorno all'estremo sud, ma poi si va verso un rapido miglioramento e nel frattempo le nuvole che dal pomeriggio tornano a interessare le regioni di nord-ovest e a fine giornata anche con le prime piogge per la seconda perturbazione di cui vi ho parlato. Però come vedete sa anche una domenica l'insegna di schierite ampie in gran parte del paese e con temperature vi dirò anche tutto sommato piacevoli al centro-sud continueremo a toccare e superare i 20 gradi. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.